buonasera benvenuti questa sera ci occupiamo dell'annosa questione del revenge porn che a tutti gli effetti ricordiamo una violenza che purtroppo però è qui in italia si trova ancora in una zona d'ombra burocratica che fa fatica ad assicurare alla giustizia i carnefici ovvero coloro che divulgano questo materiale confidenziale e che inevitabilmente finiscono per rovinare la vita pubblica delle vittime in questioni questa sera abbiamo qui con noi in studio la signora rosa che è stata vittima di revenge porn salve salve a tutti ma come sì perché la signora rosa ha condiviso con il suo fidanzatino amilcare esattamente delle fotografie confidenziali in cui veniva ritratta in una maniera osè delle pose erotiche che erano semplicemente insomma uso frutto del suo fidanzatino questi 64 scatti questi 12 video però sono finiti nelle mani sbagliate e sono stati divulgati si sono stati condivisi nelle chat nei gruppi la mia vita ne è rimasta sconvolta immagino ma cosa è successo avevo dei benefit non li ho più ha perso tutto per esempio la carne migliore dal macellaio il posto del parrucchiere il burraco con le amiche terribile e poi ci sono dei luoghi dove non potrò più mettere piede ad esempio in chiesa chiesa ma come in chiesa queste foto sono capitate nelle mani del parroco e lui don franco mi ha interdetto dalla funzione domenicale pure pure il parroco il par come sono finiti in mano al parroco don franco le ha alliccate solo per giudicarmi le confesso che ho anche pensato di farla finita no 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 ecco no signora rosa no non lo dica neanche per scherzo ha tutta la vita davanti penso non queste cose non le devi dire neanche per scherzo no no in effetti non ne avrei il coraggio oh e meno male ma signora rosa io le vorrei chiedere che cosa succedeva in questi scatti o se di che cosa stiamo parlando quello che ogni persona nel suo intimo fa per compiacere chi ama indosso biancheria seducente tipo reggi calze di pizzo ballo scosciatamente mi spoglio ammeccando uso dei sex toy denunzianamente facci bisogni insomma quello che fanno tutti ecco a fa anche bisogni vabbè insomma quello che fanno tutti 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 lo fai pure te sì sì certo lo fanno tutti chi è che non lo fa io senza peccato scagli la prima pietra o no questo non se lo ricorda il parroco infame parroco infame va bene noi la ringraziamo per aver condiviso questa esperienza traumatica speriamo che insomma i carnefici vengano assicurati alla giustizia il prima possibile che episodi come questo non succedano più adesso prima della pubblicità manderemo in onda una breve sequela di fotografie della signora rosa per capire ad amore della cronaca di che cosa si sta effettivamente parlando breve compilation mi raccomando non divulgate queste cose tenetele per voi noi lo facciamo soltanto per amor della cronaca mi raccomando le raccomando non l'euro